Grazie a tutti Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale Io sono Maxi e questo è il video che molti di voi aspettavano Cioè il metodo per salvare il borsone Allora partiamo con una cosa Il borsone potrà salvarlo solamente il lost della partita ragazzi Quindi passiamo al glitch Allora in primis chi vuole salvare il borsone dovrà andare nel suo CEO E dovrà avviare una missione Adesso andremo a vedere quale missione dovrà avviare Ragazzi io non ho potuto farlo diciamo Perché non ho la missione Diciamo non ce l'ho sbloccata la missione E' una missione dei veicoli speciali Io i veicoli speciali ce l'ho tutti Però non ho comprati con i soldi Non ho fatto le missioni A questo punto quando il vostro amico sarà entrato dentro la missione Vi dovrà invitare Questo non lo guardate ragazzi perché stavo in coda per entrare in una sessione Ma come sapete tutti GTA è strano Ma è arrivata la notifica dopo tre quarti d'ora E quindi niente Quando vi arriva l'invito accettate l'invito Ovviamente dovete essere per forza in due Allora La missione è questa Di sequestro merci Quindi c'è un minimo di due persone Lost sarà quello che salverà il borzone Ve lo ripeto ancora In maniera tale che non vi sfuga Una volta che avete avviato la missione Adesso vi faccio vedere che qui Insomma che questa missione è quella con il borzone Potete farlo anche con il colpo alla fleca Mi sembra Poi al limite porterò anche quell'altro metodo Se funziona E un terzo metodo ancora Allora Una volta che comunque siete usciti Vi direggete verso il vostro appartamento Qui vado verso l'Eclipse Tower Anche se per me che non sono lost nella partita è inutile Però comunque la mia ragazza ha l'appartamento all'Eclipse Tower Quindi andiamo all'Eclipse Tower Ovviamente l'host della partita andrà nel suo appartamento Una volta che siete arrivati al vostro appartamento Ragazzi l'unica cosa che dovete fare è entrare nel vostro appartamento Vi accorgerete subito che farà un bug strano Infatti invece di entrare nel vostro appartamento Vi andrà a spawnare direttamente nel garage del CEO Cioè non nel garage Nel palazzo del CEO scusate Ma il palazzo del CEO non sarà il vostro Ma sarà quello del vostro amico Come vedete qui c'è scritto Gear Fighting Io ho scritto di gridirò Ma comunque sia questo qui non è il mio CEO Per questo vi dico che solamente l'host potrà salvare il completo O comunque il borsone Dovrà andare qui E ovviamente fare salva Salva il completo Insomma magari il borsone sul completo che avete appena messo Quello che avete messo insomma del completo Per capirci ragazzi Allora io ho tentato di salvare il completo E di salvare il borsone Ma non me lo ha fatto salvare Perché O meglio L'ho portato in free mod Normalmente con un altro metodo Che se mi riesce mi porterò anche quello Però quando ero in free mod Un figlio di vittana lo incaccia Mi ha ucciso E quindi ho perso il borsone E mi ha spawnato con il paracad E nulla Non ho avuto il tempo di poter girare nuovamente quel pezzo Quindi ci proverò ancora Proverò a farlo E vediamo Una volta che il vostro compagno avrà salvato il tutto Dovrete andare sul telefono E dovrete uscire dalla missione E come per magia ragazzi Il borsone è stato salvato Detto questo Spero che vi sia stato utile Ci lasciate un like Un saluto a tutti Al prossimo video Ciao a tutti Ciao a tutti Ma che ne sono le due mia Wow Ciao a tutti Ciao a tutti